Il Matese spugna il campo di Castelnuovo infliggendo alla squadra di Di Fabio un K.O. difficile da digerire. I neroverdi pungono senza far male nel primo tempo e affondano nella ripresa. In classifica gli ospiti fanno un salto importante in ottica playoff. Inizio di gara frizzante, Felici si accentra e calcia, palla fuori alla sinistra del portiere Olivieri. Risposta immediata degli uomini di Di Fabio, De Giglio prova a sfondare sulla destra ma né lui e né Manari trovano la conclusione vincente. Ancora De Giglio al sesto si mette in proprio e sfida tutta la difesa avversaria. Contatto regolare per il direttore di gara e bordata di croce dal limite che non scende abbastanza. Sempre Castelnuovo, De Giglio e Mili dialogano molto bene. Il numero 10 non dà forza al tiro e Palombo può bloccare a terra. Come possono gli ospiti si affacciano in avanti ad usa testa i riflessi di Olivieri che respinge. Portierino classe 2002 ancora chiamato in causa sul pallone calciato a giro da Ricci che viene spedito in angolo. Dall'altra parte è sicuramente De Giglio il più pericoloso. Guardate cosa si inventa il numero 7, ancora più bravo Palombo che vola sotto l'incrocio e salva i suoi. Al 37esimo si ostacolano Casimirri e Fagioli che da ottima posizione non riescono a concretizzare l'ennesima azione sulla fascia destra di De Giglio. La ripresa ha decisamente meno da offrire. Al 65esimo prima conclusione dai 25 metri di croce Palombo gli dice di no e blocca in due tempi. Mister Urbano mette dentro l'Angelotti ed è un cambio super azzeccato. Il numero 18 va via sulla sinistra e crossa Casimirri la devia nella sua porta e a far festa sono gli ospiti 1-0 Matese nel momento in cui il Castelnuovo provava ad affacciarsi con maggiore convinzione. I padroni di casa non riescono a trovare spazi nell'ordinata a disposizione dei casertani e dopo 4 minuti di recupero il Matese allunga la striscia di risultati utili consecutivi a 13 battendo il Castelnuovo per 1-0. Un KO brutto è dettato da poca convinzione nella ripresa per i ragazzi di Di Fabio che avranno modo comunque di rifarsi nell'immediato futuro contro Campobasso e Notaresco.